Caro Davide, caro Peppe, tanto per cambiare, siamo già a dieci minuti di ritardo, si sente un setore di carogna che tu non hai idea, siamo fermi qui ad aspettare chissà che cosa, cosa sarà successo oggi, voi lo sapete? Non so neanche se sei nella carrozza più avanti, caro Peppe, comunque siamo al solito di Trenitalia, oltre dieci minuti di ritardo, a chi lo arriverò oggi, si è partiti finalmente, quindi presumo arriveremo a 15-20 minuti di ritardo, sempre 8-5-7-5, Giorgio Alati, Trenitalia Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.